piccolo robotino un'ora prima Andy, Andy e Demi hanno deciso di donare un'antica pietra preziosa che hanno trovato nella grotta al museo della città è un'idea grandiosa, allora avete capito tutto? è la vostra ultima opportunità, non sprecatela andrà tutto benissimo capo non riesci proprio a non fare rumore Rocco? non stiamo facendo una passeggiata nel parco non l'ho fatto apposta, non avevo visto il gatto come fai a sapere il codice? non c'è tempo per le chiacchiere adesso, muoviti presto e adesso come facciamo con i raggi infrarossi? dobbiamo manomettere il sistema di allarme e spegnere i raggi questo strumento ci aiuterà a manomettere il sistema di allarme del museo adesso identificherà il codice segreto del sistema e poi lo disattiverà ecco fatto, ci sono voluti giusto pochi secondi prendi il rubino e andiamocene, forza presto presto, scappiamo via il rubino, non dimenticare il rubino chiamata a tutte le pattuglie c'è stato un furto al museo un'antica pietra preziosa è stata rubata il furgone arancione deve essere fermato immediatamente più veloce, più veloce, ci stanno seguendo, muoviti questo vecchio furgone non può andare più veloce di così fermatevi immediatamente, arrendetevi non ascoltarlo, accelera, non ci arrenderemo preparatevi, stanno per uscire dal tunnel reggiti forte stanno scappando, hanno abbattuto il posto di blocco stringi il volante, Rocco, dammi retta finalmente è finita e questa volta per sempre adesso la polizia si occuperà di voi è finita, già, Rocco oggi abbiamo perso il capo ci ucciderà grazie per aver guardato il nostro cartone bimbi per favore, scegli cosa puoi vedere ora abbiamo molti, molti cartoni interessanti grazie per aver guardato il nostro canale